Ciao, benvenuti a tutti. Vediamo le previsioni per la settimana dal 16 al 22 dicembre 2024. Daremo per il primo mazzo il quarzo rosa e o l'ametista per la vostra scelta. Il secondo mazzo di tarocchi lo identifichiamo con l'avventurina verde. Quindi fai la tua scelta e vediamo cosa ti riserva la settimana. Una postilla. Ti dico che ho pubblicato l'oroscopo 2025 praticamente di tutti i segni zodiacali adesso che stai vedendo questo video. Quindi vatteli a vedere. Ti lascerò il link in fondo alla fine di questo video o giù nelle informazioni troverai il link dove cliccare andartelo a vedere. Quindi interessante andare a vedere cosa ti si prospetta per il nuovo anno. Ma detto questo, bando alle cianci, andiamo intanto a vedere la penultima settimana di questo 2024. Andiamo qui. Eccoci qua. Per te che hai scelto l'ametista o il quarzo rosa andiamo a vedere la settimana dal 16 al 22 dicembre. Partiamo dagli oracoli volume 1. Se vuoi questo mazzo di carte trovi le informazioni giù nella descrizione del video. O mi mandi semplicemente una mail. Vediamo la settimana per il quarzo rosa e l'ametista dal 16 al 22 dicembre 2024. Quante sono? Ah, sono due. Guarda, la collaborazione e la ricchezza. Ora, tu mi capisci? Qui, anche grammaticalmente parlando, cioè, è una frase fatta perfetta, chiarissima, no? Mi viene da dire. Qui ci può essere una collaborazione che porta ricchezza. Lavorativa, di altro tipo, insomma, ora lo vedremo per ognuno di noi. Comunque, una collaborazione che porta ricchezza, ma ancora, come qui c'è la cravatta, qui c'è la ricchezza, ma ci potrebbe essere un uomo dietro. Quindi, un manager, un personaggio ricco, comunque importante. Quindi, una collaborazione con una persona di un certo tipo, di un certo valore. Ok? Quindi, con un uomo, mi viene da pensare, ma non è detto si tratti solo di un uomo, per carità. Comunque, con una persona benestante, che ci può aiutare, può collaborare con noi. Va bene? Ma ora vedremo un po' che piega, prenderanno queste carte, via via, che tiriamo le altre e in special modo anche i tarocchi. Va bene? Andiamo a vedere. Allora, dal 16 al 22 dicembre, qui c'è la mela. Eccola la, Apple. Temptation will test you. Quindi, qui, la tentazione ti metterà alla prova. Tentazione di qualsiasi tipo, capito? Magari, ecco, in questa collaborazione, tu sarai tentato di qualcosa. Insomma, si può parlare di tante cose. Tentazione nel senso, tu vuoi smettere di mangiare, invece sono tutte queste feste, ti fanno mangiare un monte. Insomma, ora vedremo. Allora, che qui si può parlare della stessa situazione, ma anche di più situazioni staccate. Questo tu devi detenere la tua vita. L'unicorno, use your intuition to make beneficial changes. Quindi, usa la tua intuizione per apportare modifiche positive alla tua vita, va bene? E poi qui c'è il mese di febbraio. Ora, febbraio tu lo chiami e risponde. Quindi, non so se, qui devi vedere un attimino te, se magari quello che loro ti pronosticano da per questa settimana, avrà magari anche dei risvolti, no? Che arriveranno fino a febbraio. D'altronde, se non è gennaio, c'è un mese, un mese e mezzo, non è che ci sia vent'anni. Oppure, febbraio può essere la data di nascita di questo signore. O ancora, che ne so io, ci può essere una situazione, appunto, che richiama in qualche modo il mese di febbraio. Questo tu lo devi sapere te, visto che si parla della tua situazione. Vediamo cosa dicono lor signori i tarocchi. Ok? Andiamo a vedere dove ci portano. Capiamo questa collaborazione. Capiamo questa persona ricca. Insomma, comunque benistante o comunque che ha un certo potere economico, va bene, in questa vicenda. Vediamo. Settimana dal 16 al 22 dicembre 2024. Quarzo rosa e ametista. Cosa accadrà a queste persone? Vedi, il 2 di spade. Il 4 di spade. Il 5 di denari. Il 5 di denari. Ah, però, l'8 di denari. Vediamo se così entrano tutte. Ecco, che le vediate bene insieme a me. 5 di denari. 8 di denari. No. E qui, me vola. 10 di denari, 2 di hop. Ascorta, queste sono carte stratosferiche. Allora, qui si parte sicuramente da un periodo in cui, vedi qui parlano di cambiamenti l'unicorno. Si parte un po' sotto tono con queste spadacce, che poi spadacce sono, niente, insomma, sono spade, non spadacce, sono altre. Comunque, da queste spade e si va verso tutto questo ben di Dio. Effettivamente, questo unicorno ci porta un cambiamento importante. Ora, siccome ho appena pubblicato, sto pubblicando tutto l'oroscopo del 2025 dei segni zodiacali, vattelo a vedere, sicuramente qualcosa lì deve venire fuori, perché qui vedo un ben di Dio. La prima cosa mi viene da dirti, quarzo rosa e ametista, qui sono dei soldi. Sicuramente, allora, qui c'è un cambiamento positivo di una determinata situazione che può richiamare anche, appunto, dei denari. Ok? Una situazione, magari avevi ferma, avevi lì, non lo so. Va bene? Comunque, qui anche il discorso economico cambia, prende sinceramente tutta un'altra svolta. Qui si può parlare a dire il vero anche di un'eredità, perché io vedi il notaio, sicché. Quindi, magari c'è qualcuno che ti ha lasciato dei soldi, vedo questa ricchezza qui, del denaro che ti arriva da qualcuno. O ancora, siccome tu firmi dai il notaio, qui ci può essere un lascito di qualcuno, questa collaborazione, essere intesa in quel senso lì, che ora ti arriva, diciamo, no? Questa, questa cosa. Perché dico questo? Perché qui un po' di tempo fermo c'è stato, un ritardo di qualcosa c'è stata. Dico c'è stata perché la vedo che poi cambia. Effettivamente, io qui non posso non vedere febbraio. Quindi, o qui c'è qualcuno che è nato nel mese di febbraio, oppure, guarda, ora sto vedendo marzo, nelle carte lì c'era questa rigirata lì, nel fondo marzo, guarda, febbraio-marzo. Quindi, vedi un po' cosa ti possono richiamare. Magari già in questa settimana si muove qualcosa, cambia qualcosa, e la risoluzione perfetta la viene a febbraio-marzo. Non so, dipende un po' di che cosa si parla per te. Comunque, qui c'è un aiuto da parte di qualcuno, c'è qualcuno che ci aiuta e non qualche cosa. Effettivamente qui c'è la coppia, il 2 di coppia è favolosa, quindi c'è affinità, c'è concordia, si va d'accordo con qualcuno, c'è un aiuto da parte di qualcuno, c'è un fare qualcosa insieme a qualcuno. Effettivamente qui già questa collaborazione la dice lunga, ok? Qui magari ci può essere anche una terza persona che ne mette d'accordo due, cioè siamo noi che dobbiamo, ok, accordarci con qualcuno, sistemare qualcosa con qualcuno. C'è una terza persona, un mediatore, chiamalo-metti-pare, che ci può mettere d'accordo. Oltre a questo, qui c'è una ripresa anche proprio fisica. Una ripresa fisica dopo un periodo un po' di fermo, un po' così. Qui ci può essere un matrimonio, qui ci può essere qualcuno effettivamente che si sposa o comunque, se non ci voglio vedere un matrimonio, qualcuno che va a convivere o che semplicemente convive già, è già sposato e vivrà un momento di rinnovato amore, di rinnovata passione. Perché qui c'è una novità che entra in un presente, o un pochino, insomma, o in quella maniera un po' smorto, un po' smunto. Capisci che ti voglio dire? Ecco. Quindi qui è anche questo. Guarda, per dirtela tutta, qui ci può essere anche un viaggio che tu potresti fare, magari forse proprio insieme a questa persona qui. Queste sono due persone che si vogliono bene, che hanno un legame profondo d'amore, d'affetto, di passione anche se vuoi, ok, e che possono fare qualche cosa, qualcosa insieme. A dirla tutta, e non per tutti, per l'amor di Dio, lo capisco bene, qui ci può essere anche qualcuno che torna a tentarti con questa mela, eh. Nel senso che, scome qui vedo una persona sposata, ma posso vedere, o comunque che convive, ma posso vedere anche un amante di un qualche tipo, passami il termine, e qui c'è i tre. E, insomma, qui ci può essere anche qualcuno che torna a tentarci, e non potremmo essere un poenino lì, capito? In bilico, se ricascare in qualche modo è con quella maniera lì. Comunque io vedo una coppia, qui c'è una ragazza scura di capelli, bruna, e un uomo anch'esso dovrebbe essere, comunque ecco, non chiaro, credo che sia un biondo con gli occhi verdi, capito? Che se la dicono, se la diranno. Oltre a questo, qui durante questa settimana ci sono dei mesordi che entrano, io sono Dio, cioè qui ci sono dei soldini, capito? Ci sono dei soldini, c'è una situazione che cambia e che andrà a tuo beneficio, dunque qualche tipo, ok. Allora, vediamo un po', quarzo rosa e ametista, eh, già, capito? E fammi un po' vedere, quarzo rosa e ametista. Sì, qui c'è stato un qualche cosa che ha frenato, che ha rallentato, qualcosa che o che abbiamo tenuto dentro, o che comunque non abbiamo potuto fare per un motivo X. Qui c'è stata una pausa, un fermo di un qualche tipo, ok? Magari forse proprio fra queste due persone, perché io qui c'ho le due ricoppe, non ce lo dimentichiamo, fra queste due persone una situazione che si è fermata e rallentata e che ora riparte e riprende. Quindi un rivedersi, un risentirsi con qualcuno, un collaborare di nuovo con qualcuno. Magari qui si parla anche, e perché no, di lavoro, perché qui è vero fanno vedere tanto cuore e passione, ma fanno vedere anche dei miei soldi che si muovono. Qui c'è anche il lavoro di mezzo, quindi tu mi capisci. Vediamo le sibille cosa dicono, poi vediamo i segni zodiacali, eh? Allora, quarzo rosa e ametista, vedi? Casa di campagna e fanno vedere questo due di coppia e questa coppia, non so se si vede bene. Casa di campagna, mi richiama sto due di coppia qua, va bene? Quarzo rosa e ametista, la vittoria, quindi già qui guarda. Allora, ci può essere letteralmente una gita in campagna, magari tu passerai qualche giorno in una tua seconda casa, in una casa fuori città, ma qui c'è proprio, vedi? C'è proprio questa coppia, che altre non è che questa, che vivrà dei momenti felici, dei momenti appassionati, di passione, magari qualche incontro di nascosto con qualcuno. Insomma, qui c'è da parlare, eh? Quarzo rosa! Guarda, lo vedi? Cosa dice? La riconciliazione di questi due cuori, di queste due persone. Quindi qui c'è qualcuno e ecco perché c'è la tentazione. Qui c'è qualcuno che ci metterà a dura prova, no davvero, a dura prova nel senso, qui c'è un miglioramento di una situazione economica, sicuramente lo fanno vedere da tutte le parti. Qui c'è un qualcosa di economico che gira bene, che riprende al girare, bla 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 bla. Forse proprio grazie a questa collaborazione con qualcuno, ma quello che fanno vedere in modo altrettanto netto e chiaro è che qui c'è un amore, un personaggio con cui insomma siamo parecchio uniti, parecchio vicini, con cui ci potremmo riconciliare. Quindi qui c'è un rivedere, rincontrare, rivivere dei momenti intimi con qualcuno, con cui già abbiamo avuto un qualche cosa. Denari che te lo dia a fare, a un'ora che ti sto dicendo che arrivano soldi da tutte le parti, quindi io direi vediamo un po' i segni zodiacali con cui avrai a che fare. Guardati l'oroscopo 2025 e vediamo, qui c'è proprio la riconciliazione. Quarzo rosa metista, allora avremo a che fare con i gemelli, sicuramente i gemelli. Qui ecco, dopo un momento di fermo si ripiglia a girare. Allora gemelli, sagittario, vergine. Gemelli, sagittario, vergine. Con quali se? Leone, leone, cancro, questo niente. Sagittario viene confermato, quindi leone, sagittario, vergine, cancro, gemelli. Capricorno. E poi fammi sapere quel febbraio, marzo lì, di cosa ti sta parlando. Il toro. Ok, il toro. Il leone lo abbiamo visto. Il leone viene confermato. Lo scorpione. E lo scorpione subito a bomba dietro. Sagittario confermato di nuovo, mi fermo. Quindi scorpione, sagittario, leone, capricorno, toro, vergine, cancro, gemelli. I segni con cui, insomma, avremo in qualche modo a che fare. Comunque, carte splendide di cambiamento, di sblocco, di situazione, di sorpresa anche se vuoi. Qui c'è una novità, una sorpresa, un qualcosa di molto bello, di molto positivo e di stabile. Qui si potrebbero veramente mettere le basi per un qualche cosa. E la riconciliazione, vabbè, lo abbiamo visto, non mi sto a ripetere troppe, troppe volte. Qui c'è anche un incontro intimo, eh. Capisci a me. Va bene, insomma. Fammi sapere, quarzo rosa. Adesso, se ti ascolti il mio consiglio, ti guardi anche l'avventurina verde, perché può parlarti anch'esso, perché no. Va bene? Andiamo a vedere. Allora, cara avventurina verde, veniamo a noi, andiamo a vedere la tua settimana dal 16 al 22. Partiamo, come sempre, dagli oracoli. Se vuoi avere questo mazzo di carte, puoi chiedermi informazioni mandando una mail, oppure giù nelle informazioni del video. Trovi, insomma, il link per andarle a vedere, eccetera. Va bene? Andiamo a vedere dal 16 al 22 per l'avventurina verde. Qui siamo addirittura d'arrivo, eh. L'anno proprio sta finendo, siamo proprio agli sgoccioli. Ho pubblicato l'oroscopo del 2025 per tutti i segni zodiacali. Andiamo a vedere con l'astrologia il cielo dell'anno e poi man mano ogni segno zodiacale. Anche questo lo trovi qui in fondo. Quando arrivi alla fine di questo video ti apparirà la finestra, ci clicchi e vai a vedertelo, va bene? Ma per adesso andiamo a vedere la settimana dal 16 al 22 dicembre per l'avventurina verde. Qui ci può essere qualcuno che si pente ad un qualcosa. Quindi, non so, una richiesta di scuse, una parola magari proprio anche di scuse. Un qualcuno che vedrà, insomma, farà un po', piangerà su il latte versato, diciamo. Ecco, un qualcosa di questo tipo. Non escludo chi di voi possa recarsi, non so, da un notaio, da qualcuno, insomma, per firmare un atto. Dunque, qualche tipo. Andiamo a vedere perché cosa ci vogliono dire. Allora, avventurina verde, dal 16 al 22 dicembre 2024, io vorrei una carta, il messaggero. Eccolo qua, il messaggero. Quindi qui, letteralmente, c'è una comunicazione che arriva, un messaggio che arriva, d'una certa rilevanza, d'una certa importanza, perché per farcelo vedere proprio come carta madre, diciamo, no? Per l'intera settimana è qui, a quanto pare, insomma. O comunque, se non vogliamo vederci un messaggio, un messaggero in particolare, qui semplicemente le carte ci stanno preannunciando, insomma, una settimana, diciamo. Ecco, perché di questo parliamo, parliamo di una settimana viva, diciamo, viva di comunicazioni, di messaggi, di scambi, ok, di novità che arrivano, va bene? Bene, mettiamola qua, proseguiamo, andiamo a vedere. Allora, la settimana, dal 16 al 22 dicembre, per l'avventurina verde, ok? Il maiale. Quindi qui c'è da fare attenzione al grid, come si dice, non alla varese, all'opposto, a chi vuole troppo, è un bidella parola. Comunque, le forze. Quindi qui c'è anche, se vuoi, come dire, chi troppo vuole non la stringe. Qui ci potrebbe essere anche una problematica durante questa settimana per l'avventurina verde. Per l'avventurina verde, magari che noi vorremmo arrivare ad un qualcosa e arriviamo ad un po' meno, visto quello che ci stanno dicendo. Però, insomma, qui dall'altra parte ci parlano di un amore spirituale con questo Giglio, che arriva il mese di maggio, che sicuramente avrà un'importanza ad un qualche tipo per uscire fuori. E qui c'è la scopa, qui c'è la scopa, qui c'è proprio un pulire, anche se vuoi, un ripulire una determinata situazione. Ma ci parla anche di una nuova casa, quindi chi trasloca chi cambia, chi cambia casa, ma anche di una nuova attitude, di un nuovo atteggiamento nostro riguardo ad una determinata situazione. Quindi questa è un po' l'introduzione avventurina verde. Vedi, se ti possono parlare di una situazione, ma anche di più di una situazione, come vediamo sempre. Quindi bisogna che interpreti un attimino se nella sua vita. Ma andiamo ad ascoltare, a lasciar parlare, lor signori, i tarocchi. Allora, avventurina verde, settimana dal 16 al 22 dicembre 2024. Ok, avventurina verde, dal 16 al 22 dicembre 2024. Cosa accadrà a queste persone, dal 16 al 22 per l'avventurina verde. Quindi teniamo a mente questo messaggero e vediamo i tarocchi cosa hanno da dire. Ok, si parte dall'otto di spade, il papa, eccola là, otto di spade, papa, il bagatto. Aspetta, mettiamolo un po', sì, se no, il bagatto, cos'altro. Ah, però, il cavaliere di denari, cavaliere di denari. Il mondo, ok? E nel taglio, qui c'è una splendida imperatrice. Ora, io si dirò, effettivamente, allora qui molte cose, non che avessi idea di dubbio, molte cose tornano, qui c'è l'amore spirituale, qui c'è il papa. Sicuramente qui c'è un affetto, una dimostrazione d'affetto che ti arriverà durante la settimana, magari semplicemente l'amore di un figlio, di un genitore, di un fratello, di una sorella, di chi ti pare. Ok, ricordiamoci questa nuova casa, quindi ci può essere chi di voi veramente, ok, potrebbe firmare un qualcosa che riguarda una nuova casa o comunque un nuovo atteggiamento verso una situazione. Ma magari non siamo noi che cambiamo atteggiamento, ma è qualcun altro. In che senso? Qui ci potrebbe essere, ti ricordi, mentre mi schiavo, ti ho detto, mentre mi schiavo gli oracoli, ti ho detto, qui ci potrebbe essere qualcuno che si pente di un qualche cosa, che avrà un rimorso di un qualche tipo magari nei nostri confronti. Ed effettivamente io posso vedere in questa settimana anche proprio una richiesta di scuse o comunque un far pace con qualcuno. Questo messaggero potrebbe veramente arrivare da una persona che si vuol riavvicinare a noi, riappacificare con noi, perché io vedo anche, vedo anche questo. Quindi qui magari c'è stato un qualche cosa, un qualcuno che insomma ha agito un po' in modo, quella maniera lì, va bene. Qui c'è quest'otto di spade, quindi una situazione critica che ci ha fatto sentire a disagio, che non ci ha fatto stare bene, che non ci ha messo, insomma, no, a nostro agio. Qui le cose potrebbero sistemarsi. Qui c'è anche il lavoro. Quindi se tu cerchi lavoro, se hai avuto problemi di lavoro, se aspetti una risposta di lavoro, qui ti arriva in tutti questi casi. Quindi la risposta di lavoro se tu l'aspettavi, la sistemazione di lavoro se era questo il caso. Chi di voi potrebbe anche, perché no, viaggiare? Quindi ci può essere anche chi si muove, chi si sposta, magari forse proprio per motivi di lavoro o chi va a saperlo. Quello lo saprete voi per la vostra vita. Io vedo semplicemente questo movimento, questo spostamento, questo viaggio, ma quello che vedo, vedo anche la comunicazione. Tutte le carte mi parlano di comunicazione. Gli studi, se hai un esame qui, effettivamente, sì, dopo un periodo un po' difficile, perché quest'otto di spade c'è, però qui ci può essere qualcuno che ti aiuta a scollinare, a superare delle problematiche, anche da quel punto di vista lì, e poi, come ho detto, qui ci può essere veramente una riconciliazione, una riconciliazione con qualcuno. Può essere un amore, ma può essere anche un'amicizia, non andiamo a pensare sempre solo alla passione, nel senso, al rapporto uomo-donna, un ex che torna. Magari semplicemente con un amico, con un figlio, con qualcuno, semplicemente con cui abbiamo avuto un battivecco, che ci ha accusato, o comunque ci siamo accusati di qualcosa. Va bene? Ce ne siamo dette di ogni, e ora potremo, insomma, ecco, riavvicinarci in un certo qual modo. D'accordo? Un'altra cosa che emerge assolutamente chiara sono i soldi, sono i denari. Quindi qui, allora, siccome io vedo i soldi in arrivo, ma siccome qui ci sono le forbici, c'è un po' una delusione, di un qualche tipo, quindi un qualcosa che non ti tornerà a c'è, qui potrebbe semplicemente essere che sì, il denaro, però magari non ti arrivi. Io penso che ti arrivi, sinceramente, ti dovrebbe arrivare proprio in mano del denaro durante la settimana, però siccome c'è questo messaggero, magari non ti arrivano proprio loro, ma te ne arriva la comunicazione. Come dire, guardi, non lo so, stiamo per mandarle questi soldi, che ne so io. Ok? Quindi potrebbe essere anche, potrebbe essere anche quello. Fammi vedere una cosa qui. Allora, per l'avventurina verde. Comunque una settimana assolutamente, vedi, il bagatto, assolutamente positiva, diciamo, si esce da una situazione un po' critica, bagatto con il re di spade. Quindi qui ci sono state delle parole che hanno ferito sicuramente da parte di qualcuno. Ok? Qui c'è stato uno scambio. O ci sarà, eh, per l'amor di Dio. Uno scambio di parole, un qualcosa, eh. Insomma, abbastanza, insomma, un po' in quella maniera lì. Però qui la cosa dovrebbe proprio andare a risolversi, ad appianarsi. I toni si fanno più calmi, più rilassati, più tenui, va bene. Vedi il nuovo atteggiamento? Magari il nuovo atteggiamento è dell'altra persona nei nostri confronti. Che cambierà? Qui c'è l'amore spirituale, quindi sicuramente, ecco, i toni camera. Comunque, detto questo, qui fanno vedere proprio come ti ho detto anche il lavoro. O comunque, se non vogliamo vedere il lavoro, qui c'è un discorso proprio prafico, un qualcosa di prafico che faremo, che sistemeremo, che metteremo a posto. Vediamo le sibille chiacchierine, ecco, quindi sicuramente questo. Allora, per l'avventurina verde, dal 16 ai 22 di dicembre, oi oi, quante carte. Comunque, qui c'è la sorpresa, guarda che sta come rimane. Quindi qui c'è una situazione a sorpresa che si svilupperà durante la settimana, contrarietà a dispiacere, vedi? Qui c'è stato un qualcosa che ci ha fatto rimanere male, che non ci aspettavamo, va bene? E lo vedo da quest'otto di spade qui. Però qui c'è poi il piacere, divertimento, vedi? L'amica sincera è la casa di città. Quindi ora, al di là anche di questa amica sincera, che posso vedere anche qui nell'imperatrice, quindi letteralmente un'amica che ci verrà a trovare a casa, o se non vogliamo vedere la casa, possiamo vedere che ci viene a trovare, insomma, nel luogo dove siamo noi, va bene? Quindi che viene a trovarci, ma qui ci può essere anche proprio questa amicizia, questa persona cara con cui abbiamo avuto un qualcosa che non ci aspettavamo da questa persona, un qualcosa che ci ha contrariato in un qualche modo, vedete di chi ti parlano, avventurina verde, tu lo saprate, ok? Ecco, qui ci può essere, vedi, il piacere, divertimento, quindi il messaggio, la cosa, insomma, il risentire questa amica, il rivederla e il farci pace, che è quello che abbiamo visto, diciamo, da tutte le altre carte. Poi, come ti ho detto, da qui vediamo la settimana, però, se vorrai, io ho appena pubblicato l'oroscopo del 2025 di tutti i segni zodiacali, guardati un pochino anche qui, insomma, metti tutto insieme. Comunque, detto questo, vediamo i segni zodiacali per l'avventurina verde. Con quali segni zodiacali avrà a che fare l'avventurina verde durante la settimana? Allora, già ho visto volare il sagittario, due volte, quindi two is made to one. Quindi, sagittario, qui c'è coinvolto in qualche modo. Allora, con quali segni, ricordiamoci, sta sorpreso. Qui c'è qualcosa che ti ha contrariato, però c'è un qualcosa che si va ad aggiustare, una situazione che torna serena, non so come è meglio spiegarmi, che sia con un'amica o che sia con un'altra persona, va bene? Ok, sagittario, capricorno, anche perché è una persona a cui vogliamo bene, che ci vuol bene, con cui c'è un certo affetto. La vergine, con quali segni zodiacali avrà a che fare il leone, l'ariete, questi no, questo no, con quali segni zodiacali avrà a che fare l'avventurina verde, il toro, quindi abbiamo detto toro, vergine, sagittario, capricorno, ariete, questo niente, abbiamo detto ariete, leone, ok, leone, i gemelli, li abbiamo visti i gemelli? No, aggiungiamo i gemelli e vediamo se ce ne danno degli altri, se no ci fermiamo, va bene? I gemelli, cos'altro ancora? Ok, i gemelli, questo niente e la vergine, che l'avevamo vista, viene confermata, quindi è il segno dei pesci, quindi pesci, vergine, sagittario, toro, gemelli, leone, ariete e capricorno. Questi segni zodiacali che più mi escono in fuori, poi non saranno gli unici per ammordiglio, comunque quello che ti deve far fede è la stesa. Qui c'è una riconciliazione dopo un dispiacere, una contrarietà. Denaro in arrivo, il lavoro che si rimette in auge, quindi se ti ha perso il lavoro, se il lavoro andava male, bla, posso parlare altri giorni, se il lavoro andava male, è successo qualcosa sul lavoro, qui ti arriva il messaggero, quindi ti arriva questa notizia, un qualcosa, insomma, ok, che si rimette in auge. Ovviamente, per ovvi motivi, da quello che vedo, se tu hai un contratto in scavenza, che ti sta scavendo, guarda, questa settimana, insomma, eh, qui si arriva alla conclusione. Quindi, come dire, ora io non voglio dire perché non sto chiedendo né del lavoro, non sto chiedendo di una persona in particolare, però diciamo, ecco, qui ti potrebbe arrivare anche la comunicazione, come dire, guarda, il contratto è terminato, arrivederci, grazie. Non che ti licenzino, però, arriva, cioè, si sapeva già che era così, non so come è meglio spiegarmi, capite, avventurina, comunque qui si va troppo nel dettaglio, si va troppo nel personale, rimaniamo, ecco, guardati l'oroscopo del 2025, del tuo segno zodiacale, del tuo ascendente, della tua luna, e poi fammi sapere. Comunque, io sono qua, ti auguro una felice settimana, settimana, seguimi se vorrai, io ti aspetto, ovviamente, sempre qui, su Penelope e le sue carte, al mio prossimo video. Ciao!